Il calcio è molto difficile, ovviamente per vincere abbiamo bisogno di fare molti gol e solo questo è quello che dobbiamo fare. Io sono attacchi, solo attacchi, poi posso giocare solo, a due, a tre, ma in france si gioca sempre a un solo davanti, poi si può giocare a due. Le mie caratteristiche, ho cercato di marcare dei buti, puissante, costante nelle duelle. Il mio accordo con il Foggia è nato dal fatto che io ero già stato contattato da Nember quando lui era al Chievo Verona e io ero al Caen e quindi già da allora lui mi cercava. Io non conosco la Serie B, perché alla televisione non si può guardare i match in Francia. Io conosco la Serie A, apparemment si rapprocha un po'. Per me è molto tattico. Io non ho mai seguito, non conoscevo bene il campionato italiano di Serie B, però la cosa che posso dire è semplicemente che risulta molto tattico rispetto a quello francese. Per giocare non ho bisogno di avere tutto questo spazio intorno a me, so muovermi benissimo in tutte le situazioni, indipendentemente dai giocatori con i quali mi sto rapportando. La cosa importante è essere uniti con la mia squadra e quindi so ben gestirmi. Ho scelto di venire comunque in Italia, di lasciare la Francia perché comunque era un progetto che mi interessava e ho pensato a me, alla mia famiglia e a ciò che comunque poteva fare bene a me e quindi mi ha colpito perché comunque era un progetto interessante e sono felice di aver fatto questa scelta. A Domeno volevo chiedere, si è visto qualche video del Foggia su internet? Che idea si è fatto della piazza dove stava venendo? Eccezionale, 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 non ho mai visto niente di tutto questo.